La città dei fiori per Antonomasi in Abruzzo e Francavilla al Mare. Proprio a Francavilla al Mare l'Arco Consumatori propone e suggerisce il progetto Fiori in Festa perché i fiori possono starci tutto l'anno e possono diventare patrimonio di tutta la collettività. Come in questo progetto? Non solo fiori ma il verde in particolare. Noi abbiamo qui la fortuna di avere già un orto botanico in funzione, da riattivare però, da rianimare che può essere utilizzato per diversi spazi anche per il sociale. Alcune cose possono essere per esempio la mostra permanente del bonsai, la mostra permanente delle piante grasse eccetera ma soprattutto può essere utilizzato per organizzare orti metropolitani per gli anziani, piccoli spazi dove si può coltivare utilizzabili anche da persone handicappate, sopravvivendo semplicemente delle aiole e poi fare anche la clinica delle piante, la clinica dove si può portare la pianta di casa a cui siamo affezionati e che ha qualche problema e che può essere per un periodo tenuta in osservazione e curata. Altra questione molto importante è l'utilizzazione didattica per esempio attraverso un labirinto vegetale, attraverso un parco Robinson e poi soprattutto un elemento di socializzazione importante sono da una parte la possibilità di portare il cane e i cani, gli animali domestici, il pet park, una struttura nella quale si può portare anche gli animali oggi presenti nei canini municipali, abbandonati in qualche modo e soprattutto isolati, invece ricostruire per loro anche un elemento di socializzazione con gli anziani. Altre questioni riguardano poi la biblioteca, la possibilità cioè di leggere all'aperto in spazi organizzati dove sia possibile anche prendere a noleggio in qualche modo un libro. Insomma tutte e tante iniziative che possono sfociare nel momento estivo anche come elemento di grossa attrazione turistica e per esempio facendo un elemento di formazione su tutto quello che è l'area verde, il compost, la cultura biologica e anche collegati con un piccolo punto ristoro in cui si possa mangiare per esempio piatti cucinati con i petali.